Grande festa al San Paolo, l'esordio del Napoli in Champions League ai contorni di una favola. La squadra di Benitez batte 2-1 il Borussia Dortmund. Personalità, possesso palla e grandi giocate e la ricetta vincente degli azzurri. Prima il colpo di testa in rete di Guain e poi il gran gol di Insigne su punizione fanno esplodere il San Paolo. L'attaccante napoletano riceve anche i complimenti del tecnico del Borussia Dortmund. E' un'emozione bellissima, è un'emozione indescrivibile, sicuramente non lo dimenticherò mai e lo ripeterò ogni giorno. Soddisfatti per la prestazione Valon Berami e Pepe Reina. Dalle parole abbiamo trasformato i fatti, abbiamo giocato bene, a parte i primi dieci minuti sicuramente abbiamo iniziato con un po' di timore, un po' di paura, abbiamo fatto un po' di fatica, dopo man mano che il tempo passava abbiamo sempre preso più consapevolezza dei nostri mezzi fino ad arrivare al gol e poi a quell'episodio dell'espulsione. Siamo stati fortunati negli episodi, poi purtroppo abbiamo fatto gli ultimi dieci minuti dove abbiamo perso l'intensità e abbiamo rischiato contro una squadra forte. La prima partita a San Paolo dopo questo girone sicuramente era molto importante e siamo molto contenti per le tre punti. Grazie a tutti.